Ciao a tutti amici di Everiae, un salutone dal vostro Green Player Review di Higuain International Man of the Match che mi è stato chiesto fra i commenti della review precedente di Rodriguez International Man of the Match allora parliamo subito di Higuain 87 di overall per lui un giocatore secondo me abbastanza statico per via del suo work rate medio medio della sua velocità che ha 81 velocità con 83 accelerazioni e 82 sprint 76 agilità, 65 equilibrio, queste 3 stelle sulle skill diciamo tutte queste caratteristiche non lo rendono un giocatore con cui andare a dribblare tanto i difensori non è un velocista e non è neanche una torre perché il suo work rate lo fa seguire abbastanza l'azione per cui non è il classico attaccante che vi rimane su in attesa di ricevere il pallone Di Buono cos'ha? Di Buono ha una grandissima forza fisica che è questo 81 che sembra molto di più in gioco lo fa resistere molto bene i contrasti e ha un tiro eccezionale al di là di questo controllo palla 89 e 83 di dribbling comunque si sente molto il controllo palla il suo tiro è veramente incredibile 99 finalizzazione, 99 potenza tiro, 91 tini della distanza abbiamo un 85 nell'effetto e un 98 nei tiri al volo ecco questo si la cosa buona di Higuain è che anche grazie al suo controllo palla tempo zero da quando lui ha preso il pallone vi tira le sassate in porta e fa dei gol strepitosi un'altra cosa che però non mi è piaciuta moltissimo sono i suoi passaggi corti quelli lunghi evitiamo di parlarne perché comunque è un attaccante questo 74 passaggi corti con 70 divisioni in gioco fa fatica a costruire l'azione diciamo magari con un centrale nei moduli che ho provato mi è piaciuto molto come attaccante singolo in un 4-5-1 con il supporto di due COC in un 4-3-3 invece non mi è piaciuto tantissimo proprio per via dell'essere abbastanza statico in un modulo con due punte affiancato ad un attaccante veloce invece forse rende al meglio alta caratteristica importante è l'88 nel posizionamento soprattutto nelle azioni magari in cui scatta il contropiede nonostante lui abbia comunque un network rate medio medio questo 88 nel posizionamento si sente molto perché ve lo trovate diciamo nel posto giusto al momento giusto magari in quelle azioni in cui siete sulla fascia e crossate in mezzo colpo di testa anche questo è buono 81 con un 76 di elevazione non è eccezionale ma è buono il piede debole non mi è piaciuto tantissimo queste 4 stelle secondo me non si sentono molto le skill fortunatamente lui ha 3 stelle per cui ancora ancora qualcosa si può fare anche se direi è preferibile utilizzare i dribbling puro con questo tipo di giocatore qua per cui direi che ricapitolando se vale la spesa di questi 100-120 mila credit che costa si può anche fare se volete un mio consiglio usatelo come attaccante singolo solo in un 4-5-1 come invece attaccante in un modulo a 2 punte rende benissimo affiancato ad uno magari più piccolo è agile tipo un muriel se volete fare una serie a grande tiro questa è la caratteristica migliore buona forza fisica la velocità non mi è piaciuta male anche i passaggi corti ottimo il posizionamento ragazzi questa è la review come sempre io vi chiedo di lasciarmi un bel commento se vi è piaciuto iscrivetevi ovviamente al canale di Avriai scrivetemi sotto se volete qualcuno di particolare io vedrò se riesco di farvelo mi raccomando ci vediamo al prossimo video stay barba stay qualità ciao belli